Ma come siete piccoli! Ciao! Grazie a due grandissimi volontari superattivi di OIPA sezione Tursi oggi sono qui con noi, la mamma e tutti i sette cuccioli sopravvissuti alle intemperie con tutti gli ospiti del rifugio adesso si trovano prima pappa al rifugio dei nostri nuovi amichetti loro due invece vogliono le coccoline al sole ma guarda questo come mangio grazie a tutti!